Ben trovati, sono il dottor Michele Labianca, coordinatore della Task Force Coronavirus della Regione Basilicata. I dati riferiti al 23 novembre, già diffusi dal bollettino della Regione, indicano che dai laboratori presso strutture ospedaliere pubbliche convenzionate della Regione Basilicata è stato processato un numero di 1.826 tamponi molecolari diagnostici per un totale complessivo di 141.736 tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia. Le positività totali riscontrate sono state 268 e di queste 256 in residenti, alle quali è necessario sommarne 5 di residenti in altre regioni italiane, ma in isolamento in comuni della Regione Basilicata. Le rimanenti 7 riguardano residenti in altre regioni e lì in isolamento, i cui esiti non rientrano nel computo dei positivi della Regione riguardando soggetti che hanno utilizzato i laboratori convenzionati per la diagnosi. Sul totale dei positivi nella giornata presa in esame risultano in netta prevalenza i soggetti di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile, con un'età media di 47 anni per i soggetti di sesso femminile, sale dai 39 ai 46 anni l'età media dei soggetti di sesso maschile. Tra i casi positivi odierni sale al 10,5% la percentuale tra i positivi nella fascia di età tra 0 e 20 anni, continua ad essere più rappresentata la percentuale nella fascia di età tra i 21 e i 64 anni, intorno al 68%, mentre stabile al 22% l'interessamento degli ultra 65 anni, segno di un moderato interessamento di questa fascia di età. A prescindere dal numero complessivo giornaliero dei tamponi eseguiti, parametri importanti nella valutazione dell'andamento dell'infezione sono rappresentati dalla percentuale di incremento dei nuovi casi nella settimana rispetto alla media nazionale, che nella Regione Basilicata è del 23%, leggermente più alto rispetto alla media nazionale. Altro parametro è la proporzione dei test positivi sul numero totale dei test effettuati, che oggi si attesta al 14%. Quest'ultimo dato testimonia la circolazione del virus sul territorio regionale, indicando un eventuale sovraccarico nel sistema di tracciamento e isolamento dei focolai. Infine l'indice RT, che è un indice piuttosto solido, che si riferisce alla velocità di diffusione dell'epidemia, che quindi dà indicazioni di massima sull'andamento della stessa e sulle conseguenze che questa potrà avere in termini di nuovi casi con le ripercussioni sui servizi sanitari della Regione. In questi si attesta poco sotto l'1,5% in calo rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda i casi positivi per Covid-19 nella Regione Basilicata, 131 sono attribuiti alla provincia di Potenza e di questi 50 interessano il capoluogo. I rimanenti 81 sono distribuiti in 28 comuni della provincia. 125 sono invece attribuiti alla provincia di Matera e di questi 66 interessano la città di Matera, mentre i rimanenti 59 sono distribuiti in 20 comuni della provincia. Incrementi numerici dei casi si osservano nelle città di Potenza e Matera, oltre che in alcuni comuni delle due rispettive province. Segno di focolai probabilmente dovuti all'interessamento di qualche struttura residenziale per anziani, anche se nel complesso continua ad essere predominante il coinvolgimento della popolazione generale. Per quanto riguarda l'asintomatologia dei casi positivi, il dato della Regione Basilicata rispecchia quello nazionale. Sicuramente gli asintomatici sono quelli maggiormente rappresentati, seguiti dai pauci sintomatici e dai sintomatici lievi. Per quanto riguarda invece i ricoverati, bisogna dire che coloro che fanno ricorso al ricovero sono una percentuale ristretta di tutti i casi positivi, circa il 5%, e di questa percentuale meno dell'1% richiede le cure dei reparti di terapia intensiva. Il totale dei ricoverati presso strutture ospedaliere Lucane Covid dedicate è di 179 pazienti, mentre il numero dei ricoverati nelle parti di terapia intensiva scende rispettivamente ad 11 pazienti per potenza e 8 a Matera. I guariti della giornata sono 26 per un totale di 1.083 unità, i positivi Covid-19 residenti sono 5.412 e i residenti ad oggi in isolamento domiciliare sono 5.233. Da riportare nella casistica, purtroppo 16 decessi associati a Covid-19 che portano a 130 il totale dei decessi della Regione Basilicata dall'inizio della pandemia. I decessi sono stati comunicati tardivamente e sono riferiti al periodo 19-24 novembre. Si tratta di soggetti con un'età media di 75 anni, con patologie preesistenti, come ipertensione arteriosa, problemi cardiaci, diabete, malattie respiratorie croniche, tumori e pazienti anche immunodepressi. Ciò conferma della pericolosità dell'infezione, particolarmente in soggetti di età avanzata, con o senza patologie concomitanti, e nei soggetti fragili in tutte le fasce di età, con una o più patologie. In conclusione, come a livello nazionale, sembrerebbe essersi fermato il trend ascendente del numero dei casi positivi. Abbiamo esposto i risultati sul territorio regionale dell'infezione da parte del virus, i cui effetti stiamo imparando a conoscere meglio. Anche di fronte a dati negativi ed in attesa della vaccinazione anti-Covid, le attuali evidenze suggeriscono che con idonee misure di prevenzione è possibile evitare l'infezione da SARS-CoV-2. Così viene denominato il virus dal nome dell'abbreviazione del sintomo più pericoloso, la sindrome respiratoria acuta grave, che esso provoca in alcuni soggetti. Il virus diffonde da persona a persona, in modo diretto o indiretto, attraverso oggetti o superfici contaminate, per contatto stretto con persone infette, attraverso secrezioni dalla bocca e del naso, come la saliva, le secrezioni respiratorie, come quando una persona malata infetta tossisce o starnutisce, quando parla, canta. Queste secrezioni vengono rilasciate dalla bocca e dal naso. Le persone che sono a contatto stretto a distanza inferiore ad un metro, con una persona infetta, possono contagiarsi se le goccioline entrano nella bocca e attraverso il naso o gli occhi. Ed è per questo che è fondamentale adottare specifiche misure di protezione respiratoria, compreso l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, lavarsi correttamente e regolarmente le mani con acqua e sapone o con un prodotto a base alcolica, pulire frequentemente le superfici che potrebbero essersi contaminate, evitare soprattutto ambienti chiusi, affollati e poco ventilate, in cui eventuali persone infette possano trascorrere lunghi periodi di tempo con altri individui. Ringraziandovi per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo intervento.